Se il sabato mattina non sai cosa fare vai sulla KL Tower 400 metri d'altezza Dopo di che pigli il tuo parapendio ti butti giù Siamo in centro a Kuala Lumpur da questo punto di vista Avete letto bene 216 ringgit la benzina cioè 42 centesimi al litro Quasi quasi roba da venire a fare il pieno Il cuore pulsante di Kuala Lumpur beh è Petaling Street ovvero Chinatown Il festival del falso non c'è una cosa che sia vera Grazie a tutti Grazie a tutti.